Questo è un problema sul problema, cioè sulla violenza, sull'aggressività, sulla cattiveria, sullo stocchi, continuano poi a diventare col cordone americane che queste donne non riescono a tagliare. Poi Irene, ora, qui abbiamo parlato tante volte, il dramma dell'ultimo appuntamento, questo è un argomento su cui dobbiamo sempre focalizzare il focus di, a parte chiaramente tutto quello che bisogna fare per prevenire, ma una donna che ha bisogno di tanti segnali, in questo caso parliamo di Cazzo Anna, deve diffidare il popolo. Grazie.